ciao rega eccoci qua ancora noi di radio immaginaria fare intervallo 182 perché insomma questo intervallo lo sappiamo la nostra vita è un'attesa gli intervalli sono le cose più importanti quando andiamo a scuola adesso non ci andiamo più ma non per questo noi non possiamo immaginare quello che ci piacerebbe quello che vorremmo fare come sarà anche la scuola dopo il coronavirus e secondo me un tema molto importante che la scuola dovrà affrontare è vedere film vedere avere un po di arte un po di più un po un po più di arte a scuola un po più di cinema a lezione sarebbe molto più figo però io non sono da sola qui solamente con la mia mascherina i miei guanti ma c'è anche Federico Taddia collegato da un mondo immaginario che adesso mi sta sentendo ciao Fede è il mondo immaginario di casa mia ciao Giulia ciao a tutte le ragazze e tutti i ragazzi oggi parliamo sì parliamo di arti varie parliamo di teatro parliamo di cinema e parliamo di tutte quelle cose che fin dall'inizio insomma hanno avuto un forte danno no perché la prima cosa che è stato tolto è stato il pubblico quindi immagina un cinema senza pubblico immagina uno spettacolo teatrale senza pubblico ma la creatività degli artisti ha fatto tanto insomma e la cultura va avanti oggi scopriremo come esatto esatto quindi adesso noi abbiamo un po incuriosito lasciate perdere quella serie tv che state guardando ma ascoltate intervallo 182 sigla chiuso in casa sembra passino anni viaggio con la testa come fosse sugli autobus ho messo idea di fare un po come ieri ma conta solo oggi per avere un domani sono fisso e sono sul divano scrivo il jingle radio immaginaria se mi hai visto ero su whatsapp non è cringe quando guardo fuori quando in pausa l'intervallo è il centro dato inauguriamo una nuova puntata di intervallo 182 oggi parleremo appunto di cultura di cinema spettacolo insomma tutte queste cose belle che adesso ci mancano un po con un nuovo assessore che ancora non abbiamo visto nelle scorse puntate abbiamo qui con noi Mauro Felicori che è l'assessore alla cultura al paesaggio della regione Emilia Romagna salve ciao non so se posso darti del tu ciao beh come no certo perfetto allora noi abbiamo visto un po sul sito della regione Emilia Romagna ma insomma un po informandoci in questi giorni che c'è questo sito che si chiama Emilia Romagna creativa che segue un po questo mood della cultura non si ferma cioè in che cosa consiste cioè come avete fatto insomma a reagire così così velocemente cosa c'è dentro cosa ci possiamo trovare noi ragazzi ma l'idea è semplice ed è venuta per primo a Piero Dorici che è un sax tenore con i fiocchi della nostra città lui ha aperto da poco un jazz club in piazza Santo Stefano che si chiama Camera e proprio appena aperto i locali sono stati tutti chiusi il mondo della cultura è tutto chiuso quindi ha pensato attraverso Facebook e attraverso l'epidatv in accordo con noi di raggiungere a casa il pubblico che non può più raggiungere lui nel jazz club e quindi utilizziamo i social e anche una televisione per fare un ponte tra gli artisti a casa e il loro pubblico a casa io ti volevo chiedere ma adesso insomma che la cultura è tutta ferma quali sono le diciamo gli obiettivi per per voi cioè per te assessore alla cultura ma anche per tutto il tuo il tuo team e soprattutto per noi ragazzi se avete pensato a qualcosa in questo momento in cui siamo un po bloccati a casa ma intanto questo programma dura già da 20 giorni è un programma che inizia tutti i giorni alle 18 e avanti fino alle 11 anche mezzanotte quindi sono 5-6 ore al giorno di programmazione che cos'è interessante che attraverso queste ore di programmazione c'è tutto un lavoro artistico che si fa nella nostra regione musica cinema teatro che è di grandissima qualità e però non ha sempre un accesso facile e allora si è creato uno spazio molto interessante devo dire che io stesso ho cominciato un po' a guardarlo quasi per obbligo perché è un mio programma lo devo guardare in realtà poi mi fermo mi perdo lì anche un'ora un'ora e mezza perché delle volte sono documentari interessantissimi ieri sera ho visto un programma di Motus che è questo gruppo diciamo multidisciplinare di Darda soprattutto Romagnolo è stato veramente prodigioso adesso c'è da salvare c'è un mondo da salvare diciamo quando diciamo cultura lo leghiamo sempre al tempo libero ma quando diciamo cultura prima di tutto è lavoro sono migliaia e migliaia di persone che lavorano producendo cultura penso a tutti i videomaker quelli che producono cortometraggi audiovisivi quello è tutto un tessuto che pullula nella nostra regione ed è molto accattivante e attrente quindi noi dobbiamo evitare che questo mondo muoia e questo mondo deve sopravvivere la cultura deve sopravvivere a questa crisi e rinascere infatti noi non ci fermiamo anche con intervallo 182 cerchiamo di darvi in questi giorni un po' di idee un po' di cose che potete fare che potete seguire che potete approfondire voi ragazzi che ci state guardando in questo momento sull'epida tv quindi iniziamo questa puntata e grazie mille all'assessore alla cultura e al paesaggio della regione miglia romagna mauro felicori ciao alla prossima ciao a tutti grazie 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 eccoci tornati ragazzi voi siete su intervallo 182 noi come abbiamo detto abbiamo già fatto una puntata tema teatro però anche oggi noi vogliamo continuare a parlarne soprattutto perché in questo momento siamo qui con claudio longhi che adesso presentiamo un po' meglio è il direttore e il direttore che ci sono di Emilia Romagna Teatro. Intanto ci senti? Tutto bene? Come stai? Tutto bene, grazie, grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui con voi oggi. Grazie mille, noi siamo contenti di averti perché appunto noi sappiamo che, cioè, volevamo un po' chiedere, intanto anche se possiamo immaginarlo dal nome, che cosa fa precisamente Emilia Romagna Teatro? Emilia Romagna Teatro è il teatro regionale pubblico della nostra regione per l'appunto ed è anche un teatro nazionale. Essenzialmente noi programmiamo spettacoli, li produciamo, li mostriamo e poi facciamo una serie di attività culturali molto prossime ai giovani con interventi forti sulle scuole per cercare di promuovere la conoscenza del teatro e la cultura del vivere insieme. Ok, ma si può dire che è più o meno una scuola di teatro, quindi è più una cosa, che fa laboratori, queste cose qua. Allora, è un teatro ed è anche una scuola di teatro collegato al nostro centro di produzione, c'è anche una scuola per attori, è una scuola destinata a giovani che hanno intenzione di fare gli attori nella vita. Poi facciamo anche attività laboratoriali invece destinate a chi si avvicina al teatro su un piano amatoriale. Se io volessi, diciamo, entrare a far parte di uno di questi corsi dovrei cercare uno dei laboratori, uno di quelli un pochino più per chi ancora c'è, magari non ha mai provato niente. Esatto, facciamo laboratori per chi è alle prime armi e vuole capire di che cosa si tratta e facciamo invece una scuola strutturata di tre anni per chi invece ha già fatto una scelta e pensa di volere fare l'attore nella vita. E a proposito di questa cosa, noi per esempio stiamo continuando a fare teatro tramite le lezioni online, solo che è un po', cioè è un pochino strano, voi state continuando a fare anche questo tipo di, anche per i laboratori o per questa scuola un po' più professionale? Allora, sì, stiamo facendo anche noi l'esperienza della didattica online. La nostra scuola di teatro sta erogando degli insegnamenti online. È chiaro che è un po' complicato perché ci sono insegnamenti di tipo più teorico che si riescono a sviluppare bene anche online, ci sono insegnamenti più pratici tipo uso del corpo, tecniche di respirazione in cui lavorare a distanza non è semplicissimo, ma ci stiamo attrezzando. Anche i laboratori, per chi non vuole fare il professionista, per chi vuole conoscere il teatro, riprenderanno da questo fine settimana, li riattiviamo. Invece un'altra cosa che sappiamo che voi state facendo, che è super interessante, sono queste letture di Salgari. Quindi se ti voglio chiedere intanto più o meno come vengono effettuate, se anche queste sono online e queste cose qua, e poi dopo vabbè, tu intanto spiega questa cosa e poi ti chiedo un'altra. Allora ci siamo immaginati che un modo per essere vicino ai nostri spettatori poteva essere quello delle letture in streaming, dell'affrontare dei grandi testi della nostra letteratura, affidati a degli attori della nostra compagnia, che quotidianamente potessero entrare nelle case delle persone. La scelta è caduta. Abbiamo fatto una primissima lettura della coscienza di Zeno. Poi adesso stiamo leggendo invece puntate Le Tigre di Montpracem di Salgari. Ci sembrava una scelta azzeccata perché questo autore, ultimamente poco frequentato, ma straordinario, ha sfornato una quantità enorme di libri, di avventure, che portavano i lettori ai quattro angoli del globo e di fatto non si è mai mosso da casa. Ha sempre lavorato nel suo studio. Quindi ci sembrava che questa grande avventura in Indonesia, nell'oceano indiano, in posti estremamente esotici, raccontata tutta da casa, potesse in qualche modo aiutarci a pensare alla nostra condizione oggi. Appunto, se uno si volesse collegare a una di queste lezioni in streaming, cosa dovrebbe fare? Per quello che riguarda le lezioni della scuola, sono ahimè delle lezioni riservate ai nostri studenti, quindi non si può accedere a una piattaforma privata. Questo fine settimana partirà invece la call attraverso i nostri canali per l'accesso ai laboratori di cui parlavo prima. Quindi se seguite i canali di Emilia Romagna Teatro, sia Facebook che il nostro sito, in questo fine settimana troverete tutte le indicazioni. Tra l'altro mi piace anche ricordare che in questo momento abbiamo in corso un progetto in collaborazione con il Comune di Bologna, proprio su Bologna, che si intitola Così sarà la città che vogliamo, che è destinato proprio ai giovani tra gli 11 e i 25 anni ed è pensato per immaginare insieme una nuova idea di città e per portare avanti le attività di questo grande progetto stiamo anche lavorando in collaborazione con le scuole per entrare nelle ore di didattica online delle scuole. Tornando un attimo sul tema delle letture, c'è qualche libro o qualche magari, c'è un libro di non so come si chiamano i libri, quelli che riportano i testi di teatro e che una persona può leggere anche magari per appassionarsi in questo modo, non so, anche in questo momento che non abbiamo granché da fare, al teatro, anche attraverso la lettura. Consiglio a tutti di leggere un testo di un autore teatrale che io amo molto, che si chiama Coltesse, e il testo si intitola Salinger. È un testo ispirato al giovane Holden, in realtà scritto molti anni dopo, credo estremamente affascinante e che può far innamorare del teatro un ragazzo che ancora magari il teatro non lo frequenta tanto. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, ringraziamo Claudio Longhi, direttore di Emile Romagna Teatro, e vediamo che appunto tu sei a casa come dovete fare tutti in questo periodo, quindi mi raccomando, state in casa. Grazie mille Claudio e noi ti salutiamo. Grazie a voi. E adesso abbiamo, a proposito di musica, a proposito di cose creative, cose che possiamo fare, video, eccetera, eccetera, abbiamo qua il video di un luogo molto strano che si chiama Bottega Finzioni e loro praticamente sono una scuola di sceneggiatura, fanno delle cose molto strane. guardatevi questo video, dopo avremo anche un ospite e lo intervisteremo proprio su questo, quindi ecco il video. Perché sono qui in Bottega Finzioni? Sto cercando di seguire un sogno che è quello di diventare sceneggiatore. Io sto imparando a scrivere, non avevo mai fatto corsi di scrittura, grazie al Fondo Sociale Europeo e alla Regione Emilia Romagna ho questa opportunità di farlo in maniera gratis, finanziata. Qual è il mestiere che sto imparando a Bottega? Scrivere e inventare storie. A presentare dei prodotti formalmente accettabili, insomma sto imparando un mestiere, è una Bottega. Io sto imparando ad avere un po' più coraggio in quello che faccio nelle mie idee. Sto imparando a capire dove nasce l'emozione. Sono le storie al centro. Cosa voglio fare da grande? Forse lo scrittore. Il pirata. Cioè c'è tu, non sarei qui altrimenti. Un autore di programmi televisivi. Bottega Finzioni in una parola. Eccitante. Creatività. Confronto. Coinvolgente. Un'ottima palestra. Lavorare. Una grandissima opportunità. In una parola Bottega Finzioni è storia. Quindi abbiamo appena visto il video di Bottega Finzioni, perché in questa puntata appunto di Intervallo 182 stiamo parlando un po' di formazione, quindi non solamente di formazione diciamo degli istituti tecnici, professionali eccetera, ma c'è un'altra cosa gigante che è la formazione tipo creativa, cioè quando tu vuoi diventare uno scrittore o uno sceneggiatore, un regista eccetera. E qui con noi abbiamo come ospite Michele Cogo, che è il direttore di Bottega Finzioni. Ciao Michele, ci senti? Sì, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Benvenuto. C'è anche Federico Taddia che, insomma, io non ti vedo Fede, quindi mi scordo un po' ogni tanto che ci sei anche tu. Allora, voi siete una scuola di scrittura, insomma, fate tantissime cose, fiction cinematografiche, programmi televisivi, documentari, insomma, tantissime cose. Ma perché vi chiamate Bottega? Cioè non è un po' forviante? Non è che si capisce così tanto bene? Eh, ma invece noi speriamo che si capisca. Vedo che in realtà mi sembra che le persone che arrivano comprendano che il metodo didattico di Bottega è proprio quello paro paro delle botteghe rinascimentali. Non abbiamo assolutamente inventato nulla, abbiamo copiato quello che facevano nelle botteghe rinascimentali pittori e proviamo a farlo con le scritture. Cioè ci sono dei maestri, in maniera detta un po' pomposa, semplicemente persone che hanno più esperienza, che lavorano a delle storie, siano esse documentari, film, fiction, quello che volete per bambini, ragazzi, adulti, e lo fanno assieme a degli allievi che imparano a raccontare appunto facendolo, scrivendo le storie assieme a chi lo fa da più tempo. Michele, ma quindi si può imparare a scrivere una storia? Nel senso che non è solo questione di talento, è proprio un mestiere, ha delle regole, ha degli strumenti. Uno può diventare bravo? Certamente si può imparare a scrivere, a raccontare storie, perché il talento non è sufficiente, è certamente necessario, è una cosa che ci vuole, ma le regole per raccontare le storie servono. Prima di tutto bisogna sapere che cos'è una storia. E qui su questo c'è una tradizione millenaria, da Aristotele in avanti, banalizzo, una storia è qualcosa che ha a che fare con un problema. Se non c'è un problema, difficilmente ci sarà una buona storia. Se non c'è qualcuno che questo problema, come si può dire, lo vive, e lo vive non solo come qualcosa da attraversare, ma come qualcosa che è per lui un'occasione di cambiamento e di conoscenza, ecco, le storie stesso, le buone storie, sono qualcosa che uniscono una buona trama con un buon cambiamento del personaggio. Tutte queste cose sono cose che si insegnano, sono delle tecniche, sono delle strutture, che certamente se vengono apprese da qualcuno che ha anche il talento, ecco la cosa, certamente è la cosa ideale. Allora, noi ti facciamo l'ultima domanda. Se qualche ragazzo in questo momento che ci sta guardando volesse provare a fare un buono dei vostri corsi, come deve fare? Cioè, dove vi può trovare? È semplice accedere? Prima di tutto facciamo corsi per... Finora abbiamo fatto solo corsi per persone di maggiorenni, quindi post-diploma. Vengono fatti delle... Aprono le iscrizioni una volta all'anno, di solito in autunno, e vengono fatte delle selezioni, perché i nostri corsi sono... Ecco, un'altra cosa importante a dire, visto che prima dicevi del talento, noi tendiamo a fare una selezione basata sul talento, quindi i corsi di bottega sono gratuiti, sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, partecipano prima a una selezione, diciamo, qualcosa di scritto, poi con un colloquio, e sostanzialmente dopo si può accedere a un corso annuale nel quale si lavora all'interno o di un'area di fiction, quindi cinematografica e televisiva, oppure a un'area di non fiction, documentaristica e di intrattenimento, o un'area di storie sviluppate per bambini e ragazzi. Ecco, basta andare sul sito di Bottega, scaricare tutti i moduli, e puoi partecipare alle selezioni. Perfetto, perfetto. Allora, grazie mille per averci raccontato queste cose, noi ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tanto Michele Cogo, che è direttore di Bottega Finzioni. Alla prossima, ciao! Ciao, ciao Michele. Grazie a voi. Allora, tu Fede mi hai detto un po' di tempo fa che ti piace molto il teatro, che ti manca anche in un certo senso, però oggi parliamo di un altro tipo di teatro, cioè parliamo del teatro comunale di Modena, il teatro che proprio si chiama Luciano Pavarotti, insomma intitolato Luciano Pavarotti, però ti piace anche la lirica? Allora, guarda, mi piacciono abbastanza tutte le forme di comunicazione teatrali, non sono espertissimo, cioè capisco che è una cosa che mi piace, che mi emoziona, poi è un linguaggio comunque complicato, come già ti ho detto più volte, io e la musica siamo due mondi paralleli, difficilmente ci incrociamo, però mi affascina tutto quello che c'è dietro nella lirica, la sua storia, la costruzione scenica, tutte le persone che lavorano dietro le quinte, quindi diciamo che è un'opera, me la guardo, ma mi piace guardare tutto quello che c'è attorno. Quindi ti immagini anche diversi mondi, diciamo, infatti il video che stiamo per vedere è un video realizzato sempre dalla regione Emilia Romagna in occasione di raccontare alcuni corsi che sono stati realizzati grazie al Fondo Sociale Europeo e parla proprio di corsi per produzione lirica in teatro, quindi di cantanti, cantanti lirici, eccetera, e ci sono tanti ragazzi che raccontano che cosa significa per loro aver fatto questo corso, cosa significa per loro essere diventati anche un cantante lirico, che magari è una cosa che alcuni di noi ragazzi dicono eh vabbè ma è una cosa solamente mio padre all'ascolta, invece ci sono tantissimi ragazzi molto appassionati ed è veramente bello vederli proprio mentre dicono queste cose, quindi vedremo questo video e appunto possiamo anche ricordare un po' che cosa fa, che cos'è il Fondo Sociale Europeo e perché è così importante anche per noi ragazzi. Ma perché è uno strumento appunto di finanziamento per corsi professionali e non solo, però sono corsi veramente diretti alle nuove generazioni e quindi se tu hai un sogno e questo sogno vuoi provare ad esplorarlo magari apprendendo le prime competenze, ecco grazie al Fondo Sociale Europeo in ogni città italiana, anzi in ogni città europea, si possono trovare appunto occasioni di formazione che sono corsi magari qualche settimana, di qualche mese, a volte sono corsi pomeridiani, corsi serali, insomma ti danno davvero la possibilità a costo praticamente zero perché questo corso è finanziato per apprendere qualcosa. Esatto, allora andiamo a cantare. La passione per il teatro e per la musica lirica è nata diciamo grazie alla mia famiglia in particolare a mio padre che è musicista, pianista. Sin da bambina ascoltavo i video della Callas e ne sono rimasta folgorata, insomma. In Cina vivevo in Campania. Prima all'università io non studiavo la musica. La mia madre è anche musica e la mia figlia è musica in casa. Il canto mi dà tutto quello che nella vita non posso fare, non posso avere. Posso morire e risorgere la sera dopo in un'altra recita. Quando canto sto bene. Faccio star bene gli altri, spero, credo, sto lavorando per questo. È molto importante per me essere qui perché mi aspetto di diventare una professionista. Diventa il teatro la realtà e invece la vita che è fuori dal teatro diventa la finzione. A proposito di immaginazione però stavamo parlando anche di cinema, di teatro, eccetera. Abbiamo visto un po' di ragazzi che stanno facendo delle cose ma anche le istituzioni si stanno impegnando tipo c'è la Cineteca di Bologna che è questo posto ormai conosciuto al mondo per il restauro dei film e per il cinema sotto le stelle d'estate e speriamo che torni presto che sta facendo questi contenuti sul loro canale di YouTube che si chiamano Il Cinema Ritrovato Fuori Sala e praticamente loro raccontano dei film che possiamo vedere adesso in streaming ti consigliano dei film storici da vedere e ti suggeriscono anche dove si possono trovare noleggiandoli eccetera eccetera e quindi insomma in tutto questo tempo che abbiamo adesso è un buon modo studiare un po' di cinematografia tutte queste cose qua. Tu lo faresti Fede? Assolutamente veramente come hai detto tu è una parentesi in cui si può fare un ripassone di quello che non si è visto oppure approfondire i propri artisti o registi preferiti con la guida di chi conosce il cinema e l'opportunità che lo streaming ci dà di vedere dei capolavori e poterli vedere appunto da casa nostra Esatto noi vi facciamo vedere adesso un video però ricordatevi che tutti i giovedì questo canale YouTube della Cineteca di Bologna viene aggiornato quindi anche voi aggiornatevi andatevi a vedere Il giovedì è il giorno in cui i film di prima visione arrivano in sala adesso le sale sono chiuse non possiamo proporre i capolavori del cinema ritrovato al cinema e quindi da questo giovedì e per tutti i giovedì vi proporremo delle piccole perle che provengono dagli archivi della Cineteca di Bologna cominciamo con un doppio programma otto minuti in tutto cominciamo con dei fiori dei garofani ripresi nel 1912 da Luca Comerio utilizzando uno dei primi sistemi per riprodurre il colore e sono forse i garofani più profumati e colorati di tutta la storia del cinema e sono un benvenuto a questo programma Guida per camminare all'ombra è un piccolo gioiello che ci arriva direttamente dal 1954 è il quarto film prodotto dalla Columbus Film un nome molto pomposo per dire di una casa di produzione poverissima messa in piedi da Renzi, Zambonelli, Pizzi, Biagi e che utilizzava alcuni grandi giovani professionisti tra cui Sergio Zavoli riconoscerete la meravigliosa voce di Zavoli prima della sua avventura importantissima in Rai Renzo Renzi ha forse il primato di essere un cineasta che finì in galera prima di aver fatto qualsiasi film semplicemente perché aveva pubblicato sulle colonne di Cinema Nuovo il soggetto di un suo film L'Armata Sagapone la quale raccontava delle sue avventure delle sue disavventure di giovane sotto ufficiale dell'esercito italiano in Grecia i militari non amarono quel soggetto Renzi finì in galera a Peschiera con il direttore della rivista che aveva avuto l'ardire di pubblicare quel soggetto il giovane Guido Aristarco poi tutto finì più o meno in commedia ma Renzi una vera carriera di cineasta non riuscì mai ad averla ecco sono questi due grandi temi leggerezza e profondità che fanno di Guida per camminare all'ombra un piccolo capolavoro chiamati che fanno attraversare Musica Non fu certo il caso a stendere per le vie di Bologna 35 chilometri di portici, la più lunga galleria di pietre oggi esistente nel mondo. Al tempo delle invasioni barbariche, il comune non sa dove alloggiare i contadini che si sono rifugiati tra le mura della città. Allora pensa di utilizzare il suolo pubblico appoggiando alle facciate delle case degli avancorti retti da travi. Il materiale impiegato è il legno perché la sistemazione è più economica. L'espediente piace e il legno diventa pietra. Così troviamo il portico negli edifici pubblici del periodo gotico. Ma la nostra città, portando il motivo fuori dalle sedi primitive, doveva svolgerlo intorno alle chiese, per le strade, offrendo a tutti la possibilità di passeggiare raccolti in compagnia, come i filosofi greci e i religiosi cristiani. Muratori e carpentieri, artisti di cui spesso non si conoscono i nomi, gli dettero in questo modo un impiego civile di cui prima non c'era stato esempio. Eccoci allora, stavamo parlando di cinema, di arte, di spettacolo, di cose che adesso veramente ci fanno venire voglia, ci farebbero venire voglia di uscire di casa, ma non possiamo. Adesso qui con noi, a parte il nostro caro, carissimo Federico Taddia, che è sempre collegato, abbiamo un ospite che si chiama Nicola Zonca, che fa un lavoro che io non ho mai sentito fino ad oggi, non ho mai sentito nominare, lui fa il sound designer. Ciao Nicola! Ciao Nicola! Ciao, ciao, grazie per avermi invitato, ciao Federico! Grazie a te per essere qui, questi momenti di connessioni calanti, di suoni che non si sentono, eccetera. Allora, tu sei un sound designer e sei stato anche docente di uno dei corsi finanziati dalla regione per diventare appunto sound designer, quindi tu sei un insegnante di quello che fai alla fine, ma in che cosa consiste il tuo lavoro? Cioè cosa fai? Il mio è un lavoro molto bello, che a me piace molto, che non ha un nome italiano purtroppo, ha solo un nome in inglese, che è appunto sound designer, ed è il disegnatore del suono. Che cosa vuol dire il disegnatore del suono? Forse per capire bene che misteri faccio, bisogna capire prima un po' che cos'è il suono e come noi usiamo il suono, molto velocemente. Diciamo, noi conosciamo il mondo attraverso il suono, almeno quanto lo conosciamo attraverso la vista. Il mondo ci si racconta attraverso il suono, almeno quanto ci si racconta attraverso la vista. Siamo molto abituati a pensare di conoscere il mondo per come lo vediamo, ma in realtà lo conosciamo molto anche per come lo sentiamo. Noi stiamo a design e cominciamo a ragionare di come conosciamo il mondo, quanto è importante il suono nella nostra vita quotidiana. E poi cerchiamo di capire in che modo questa modalità di racconto può essere usata nella, diciamo, nella multimedialità. Non solo, perché anche nel teatro, insomma, in tutte le narrazioni in cui il suono può aiutare a sviluppare il racconto. Tante volte nel cinema il suono non racconta la stessa cosa che racconta la visione, ma dà un racconto un po' diverso, dà come un sottotesto, un racconto magari meno evidente, ma che racconta una cosa diversa. Se pensate alla musica del film Lo Squalo, in cui si vede un bellissimo mare tranquillo, ma sotto si sente dan 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 dan, e tu gli occhi ti dicono che va tutto bene, ma le orecchie ti dicono che va per succedere qualcosa. Nicola, è un lavoro moderno, un lavoro contemporaneo, ma è un lavoro dove gioca di più il fattore tecnologico o gioca di più comunque il fattore creativo? Secondo me il fattore tecnologico non gioca quasi mai quasi niente, nel senso che gioca quasi solo il fattore creativo. Ovviamente non è vero, ovviamente noi dobbiamo essere capaci artigianalmente di costruire delle cose, di mettere insieme dei suoni, di mixarli, di produrli, ma questa parte del lavoro è sempre più semplice, è sempre più facile, costa sempre meno, cioè i macchinari che ci servono per fare l'editing del suono e la registrazione del suono sono sempre più economici, per cui sono quasi rilevanti. Quello che è veramente importante invece secondo me è avere l'idea giusta, è avere questo sguardo, anzi questo ascolto giusto, per capire in che modo io come sound designer posso aiutare te, che sei il regista di un film, a raccontare meglio la tua storia. Tu dicevi che i software adesso per fare editing del suono sono molto più economici, infatti tra noi ragazzi tantissimi fanno i DJ, si inventano un po' a fare i producer, magari fanno uno studio nella loro cameretta, eccetera, ma io ti chiedo, per fare il tuo lavoro, basta essere bravi e magari si può imparare anche da autodidatta o è sempre meglio fare una scuola che ti insegna certe cose in maniera un po' più tradizionale? Dipende, anche in questo lavoro ci sono molte possibilità applicative diverse, ovviamente fare una scuola o fare un corso come quello che abbiamo seguito a Lecce, in cui per 700 ore gli allievi sono stati prima con delle lezioni frontali, poi con dei laboratori, poi con un progetto da realizzare con la supervisione di persone esperte, ovviamente è una grande fortuna che è un ragazzo, perché gli permette di imparare più velocemente con maggior certezza, prendendo l'esperienza di chi da tanti anni attraversa questi campi, non è sufficiente perché bisogna mettere le mani sulla materia e fare, 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 fare. Nicola, l'ultima domanda, si diventa ricchi con i suoni? Assolutamente sì, è molto facile, chiunque può diventare ricchi. No, ci sono, di nuovo, anche qui ci sono tanti livelli diversi, io credo che la direzione in cui stanno andando le cose ha molto bisogno di suono, ha molto bisogno, come dire, la quantità di immagini che si produce, la quantità di narrazione, la quantità di film, di serie, ma anche di video in YouTube, e sta aumentando enormemente. E quindi anche la quantità di suono, di sound design richiesto, aumenterà enormemente, è aumentata enormemente. Ovviamente, come in tutte le altre cose, più o meno, non è che aumenta altrettanto esponenzialmente la quantità di soldi che ci sono per farlo. Cioè, non ci sono più dei budget enormi per fare soldi in film, ci sono dei budget più ridotti, però ci sono più film. ci sono, se uno ha una bella, se uno, diciamo, ha un amico blogger, youtuber, e lo aiuta con qualche bella idea sul suono, può aumentare, come dire, può fare una cosa molto importante per l'amico blogger, e quindi guadagnarci dei soldi di conseguenza. Non è, ovviamente, non è un, non è un mestiere da rock star, però quelli che fanno come sta un design della Pixar, sono persone che stanno molto bene, diciamo. Immaginiamo. Prima di salutarti, scusa, sono troppo curiosa di sapere tu che strumento suoni. Allora, guarda, diciamo qua, puoi vedere un violoncello. Per cominciare. Però questo, in realtà, fa parte della mia seconda vita, io sono diplomato in percussione, in conservatorio, e ho fatto pianoforte percussione e composizione con la mia formazione originale. Poi, ho fatto molti anni di tournée come musicista e a un certo punto mi sono fermato e mi sono stufato e ho aperto una società che si chiama Studiarchi, che fa appunto sound design e adesso ci occupiamo del suono, ovviamente, in tutti, sotto molti aspetti diversi, facciamo anche molto doppiaggio e adesso lavoriamo molto nel mondo dei videogiochi, per cui lavoriamo con Sony, con Ubisoft, con i grandi publisher di videogiochi che è ovviamente appunto un mondo in grande crescita e che non conosce la crisi, men che meno con il coronavirus, diciamo. Noi siamo, ce ne eravamo super curiosi, chi li chiameremo perché non abbiamo finito le nostre domande. Comunque, se voi che ci state ascoltando in questo momento volete, se ci state vedendo, volete andare a vedere anche il sito di Nicola, andate a vedere su Studio Archie, giusto? Ho detto bene? Giusto, giusto, sì. Esatto, esatto. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo Nicola Zonca che è un sound designer, rega. Chi vuole fare sound designer tra di voi si informi per farlo. Grazie mille Nicola, ciao. Ciao Nicola, ciao ciao. A voi, ciao, ciao, ciao. Vediamo un video che è un video molto importante del Fondo Sociale Europeo, il Fondo Sociale Europeo, questo fondo che viene messo a disposizione alle regioni di tutti gli stati dall'Europa e è un fondo che serve proprio per finanziamento a creare nuovi lavori, nuove opportunità lavorative anche per noi. Quindi rega, questo video in particolare parla di come lavorare nel mondo della musica che nella musica non ci lavorano solo i musicisti ma anche i fonici, ma anche i produttori. Quindi rega, ascoltatelo perché è davvero molto interessante. sono arrivata a questo meraviglioso progetto vedendo il bando online e semplicemente con la curiosità di dire ok, proviamo a metterci in gioco. Mi sono candidato e dopo un percorso di selezione, eccetera, sono riuscito ad entrare nella scuola e fino ad ora sono orgoglioso di farne parte. Le mie aspettative sul corso erano alte conoscendo insomma un po' la phonoprint dall'esterno. È andato oltre le mie aspettative perché ha avuto un focus che non mi aspettavo e che apprezzo molto di più di un focus prettamente soltanto tecnico. Nel mio futuro mi vorrei vedere cantante. È un percorso non facile, non ci sono le istruzioni, le difficoltà sono tante. Diventare famoso non è un grande obiettivo ma scendere nei particolari sì, quindi vorrei scendere nei particolari della musica. È un grandissimo patrimonio che io mi posso portare nella mia valigia diciamo e sono immensamente grata di aver potuto far parte di questo progetto. questa puntata è piaciuta tantissimo perché mi sono venuti in mente 1800 idee da fare, 1800 film da guardare, vorrei addirittura aver fatto un corso di teatro per poter fare le lezioni online perché davvero è stato proprio bello avere un po' di cultura, un po' di idee creative. Non ti senti anche tu super stimolato, Fede? È certo perché comunque la cultura, l'arte, lo spettacolo non si ferma e abbiamo capito nei mille modi in cui si può fare sia seguirla come spettatori sia seguirla come attori principali, mettersi a fare arte con le mille possibilità che ci sono e che si possono anche riuscire a fare stando in casa. Non è la stessa cosa, siamo i primi a sapere che fare uno spettacolo da casa è diverso che farlo a teatro, però si può fare una cosa diversa è una cosa con, cioè entrambe le cose possono probabilmente coesistere. Esatto, ti manca un po' il brivido del pubblico però diciamo che ti puoi allenare a diventare ancora più bravo e quindi questo è un ottimo stimolo. Io ringrazio, a parte ringrazio te Fede per aver la pazienza di stare qua collegato a 182, no non sono, non saranno chilometri, però a tanta distanza da noi in questo momento per fare questo programma per portare un po' di cose belle, un po' di scuola, un po' di idee all'interno di questi giorni di quarantena, però ringrazio anche l'assessorato regionale alla scuola, l'ufficio scolastico regionale, Arter, l'Epida TV e basta, ho finito di ringraziare. Quindi noi ci risentiamo alla prossima puntata di Intervallo 182 con Federico Taddia e Radio Immaginaria. Ciao! Ciao Giulia! Yeah, yeah, chiuso in casa sembra passino anni e viaggio con la testa come fosse sugli autobus ho messo idea di fare un po' come ieri ma conta solo oggi per avere un domani e sono fisso e sono sul divano e scrivo il jingle Radio Immaginaria e se mi hai visto ero su WhatsApp e non è cringe quando guardo fuori mando in pausa l'intervallo è il centro datato è il centro datato e non è il centro datato e non è il centro datato per avere un'intervallo